Con Marco Petrini, consigliere della Federazione Italiana Pallacanestro, innanzitutto ripartiamo con un tema, quello della sicurezza legato ai giovani, legato allo stare in sicurezza quando siamo in prossimità dei binari con un torneo, Stand Back Day Yellow Line, che ci sarà nel prossimo weekend a Firenze, un tema sicuramente Marco interessante. Sì, un tema interessante, un tema che coniuga sport, sicurezza e impegno sociale e anche il rispetto delle regole, una cosa molto importante per i ragazzi, anche un'esperienza di vita perché si tratta di quasi 300 persone che vengono da tutta Italia, quindi un torneo che già abbiamo avuto qui a Firenze due anni fa, sempre in collaborazione con Polizia Ferroviaria e Associazione Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e che quest'anno però cresce, un torneo più importante, una collaborazione tra FIP e queste istituzioni che ha già dato dei risultati eccellenti nel torneo che si è svolto a Roma, è finito pochi giorni fa, che ha coinvolto tantissime scuole della città a Capitolina, quindi direi una bella iniziativa, certo in un periodo molto caldo perché il ponte del 25 aprile prevede tantissime iniziative di Pallacanestro e non, oltre a quelle più tipicamente turistiche, quindi saremmo molto impegnati, però è bello, la nostra città è una città d'accoglienza, una città di turismo, una città di sport, quindi sarà naturalmente una stupenda manifestazione. Marco Petrini sta nella stanza dei bottoni accanto al presidente Petrucci, non posso non farti una domanda sulla situazione dei tre club di Serie A che sono un po' al centro dell'attenzione, Sassari, Reggio Emilia e Trento, sulla Perella con FIBA, com'è la situazione, qual'è la prospettiva e un po' il pensiero in attesa di questo incontro con anche Malagò? La stanza dei bottoni comunque sono con le mani mozze, ci sono i bottoni ma non li tocco, a parte gli scherzi, ma io mi riallaccio al torneo, nel torneo si insegna il rispetto delle regole, si prova a insegnare il rispetto delle regole ai ragazzi, credo che i nostri club comprensibilmente si siano fatti un po' ingolosire da una proposta anche molto interessante, però devono capire che stanno all'interno di un'organizzazione che è a sua volta rispetto alle regole imposte a livello internazionale e io penso, sono fiducioso che questo sarà compreso, troverà il modo il presidente Petrucci insieme all'elettricità di trovare la quadra in una situazione che sicuramente non è semplice. Dobbiamo restituire la centralità del ruolo della federazione italiana e internazionale, dopodiché una volta ricucito gli strappi e una volta sistemata la situazione, secondo me si può anche guardare avanti. Anche FIBA ha proposte internazionali molto importanti e molto forti e di questo si vuole riappropriare, è chiaro che non è una situazione facilissima, però è altrettanto chiaro che gli obiettivi della federazione sono chiari, il Pio Olimpico, possibilmente andare alle Olimpiadi e l'anno prossimo agli europei, quindi credo che dietro a questo c'è già una mezza risposta.